Salve amici del Centro Meteo Italiano, weekend instabile o perturbato in Italia, vediamo però gli ultimi aggiornamenti per la prossima settimana. Tra sabato e domenica il maltempo colpirà duramente la nostra penisola con acquazioni temporali che al nord potrebbero anche assumere carattere di nubifragio. Domenica avremo però un generale miglioramento salvo piogge sparse che ancora insisteranno al nord-est e all'estremo sud, previsto anche un calo delle temperature che si porteranno su valori anche di qualche grado sotto le medie del periodo, specie al centro-nord. Nella prima parte della prossima settimana avremo un miglioramento del tempo anche se il transito di una saccatura porterà ancora qualche pioggia, specie sul nord-est e regioni del sud. Attenzione però perché nella seconda parte della settimana sia il modello GFS che l'europeo ECMWF mostrano la possibilità di nuovi fronti stabili in transito sul Mediterraneo centrale. Il tutto a causa di una vasta circolazione depressionaria sull'Europa. Nuova rimonta dell'anticiclone a seguire ma la distanza temporale diventa decisamente elevata. Trattandosi dunque di una tendenza, seguite tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.